Ciao amici vediamo oggi come resettare il cambio olio di una ford galaxy dal 2006 in avanti ok quadro spento porte baule e cofano tutto chiuso schiacciamo contemporaneamente il pedale del freno e dell'acceleratore e dopo di che accendiamo il quadro e attendiamo un po' di pazienza la centralina fa reset per i fatti suoi ok ho il service reset completo a questo punto possiamo lasciare il nostro pedale acceleratore spegnere il quadro e controllare reset completato lavoro finito ok ciao ciao